Video 7 parte 11 Come ho dipinto questa isola tropicale all'alba? Copro la linea dell'orizzonte con nastro adesivo. Io continuo a dipingere la vegetazione sulle montagne. I mix di blu con il nero e magenta e nero. Dipingo il colore di sfondo degli edifici con questo grigio. Io dipingerei i dettagli dei palazzi più tardi. Questa lezione continuerà in parte 12. Video 7 parte 11 Grazie a tutti